il capitale umano al centro della filiera ittica tante idee si presentano dati ma poi ecco entrando nel merito concretamente che cosa rimarrà e che cosa rimarrà rimarrà probabilmente molto poco per capitale umano perché come dicevo il capitale umano è il pescatore o l'armatore o la trida perché il pescatore l'armatore è l'imbarcato è sempre la stessa persona sulla maggior parte del nostro comparto mare quindi quel famoso 52 per cento di presenza di pescatori dovrebbe far parte di quello che è un concetto di filiera più ampio e di un'opportunità reale capitale umano non può essere sacrificato in nome di una sostenibilità ambientale dove metta al primo posto la risorsa ittica e poi dopo le persone noi abbiamo chiesto anche in commissione europea di porre e di porsi questa domanda dove va a finire questo capitale umano se noi vogliamo sempre più a centrare su quello che è una filiera ittica immaginata su quello che è l'importazione perché l'ottanta per cento importazione se mi togli per il 2030 anche 2000 imbarcazioni da pesca che sono lo strascico tu mi hai tolto un altro 30 per cento 40 per cento della flotta io se lo strascico rappresenta la fetta più grande di quello che porta il prodotto fisca a terra io avrò sempre di più l'invasione di un pescato estero di un pescato che arriva da altri paesi del mondo che non è certamente tracciato e non so neanche se è sostenibile dal punto di vista della sostenibilità che ritiene l'europa una sostenibilità ambientale che fa parte anche la correttezza di come si lavora il pesce la correttezza dei contratti collettivi di lavoro la correttezza del pagamento delle imposte quindi che fine faranno questi nostri pescatori che sono corretti e di fronte a un mercato invasivo del 90 per cento di pesce prodotto all'estero ci vuoi portare per la mano alle farine allora noi non ci siamo noi siamo per l'attività dei nostri pescatori per il capitale umano che rimanga e che possa dare risposta alla tavola del nostro consumatore finale con prodotto fresco e naturale ecco a volte quando viene visto così dall'esterno con gli occhi del consumatore sembra quasi diciamo di vivere in due mondi diversi diciamo uno quello che crea economia eccetera eccetera ed un altro il nostro quello al quale tu facevi ricevimento che diventa sempre più prodotto di nicchia quindi per pochi con pochi numeri per pochi e con pochi numeri perché in effetti i pescatori come la ristorazione la ristorazione sta vivendo un momento diverso oggi non c'è più il grosso banchetto fatto con imporzionato e quindi hai bisogno dell'acqua cultura che ti crea la spigola di 300 grammi o l'orata di 300 grammi e dai mezza porzione a chiunque oggi il consumatore finale l'utente finale vuole un prodotto di qualità il prodotto di qualità è dato dalla piccola pesca artigianale è dato dal prodotto immediatamente reperibile vicino alla costa quindi questa è la valorizzazione del capitale umano e la valorizzazione del cibo in questa famosa farm to fork poi che venga l'economia circolare in aiuto a quelle che sono le opportunità di filiera ittica complessa dal consumatore al produttore con i prodotti anche di lavorazione per una shelf life più lunga quello è un di più rispetto a quello che io devo dare al mio consumatore finale come prodotto sano e cibo sano grazie grazie grazie